Buongiorno bambini, sono nonna Stefi e voglio leggervi una bella canzone. Proprio così ve la voglio leggere, non cantare. Così secondo me la ascoltiamo meglio. Scommetto anche che la conoscete bene questa canzone. Indovinate un po'? Comincio così. Alzarsi così presto non ne puoi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece, oltre alla scuola, cento cose devo far. Inglese, pallavolo e perfino latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma un sistema rapido, infallibile e geniale. Fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò. Ma sì? Ma dai! E diccelo anche a noi. Sono le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia. Un effetto vitamina. Mangiate calde con ragù. Con ragù, eh? Ti fanno il pieno per sei giorni e anche più. Perché le tagliatelle di nonna Pina sono molto più efficaci di ogni medicina. Sono sensazionali a pranzo, a cena. E credi a me, sono buone anche al mattino, al posto del caffè. La situazione è grave ed anche i miei amici sono tutti un po' stressati per il troppo lavorare. Il tempo pieno a scuola non lo vogliamo fare. vogliamo star con mamma e papà. Ma intanto mi hanno iscritto anche a un corso di Kung Fu, sfruttando l'ora buca tra chitarra e ciclocross. È veramente troppo. Io non ce la faccio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma un sistema rapido, infallibile e geniale, fortunatamente, io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò. Ma sì? Ma dai, e dicela anche a noi. Sono le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde con ragù. Con ragù ti fanno il pieno per sei giorni e anche più. Viva le tagliatelle di nonna Pina. E allora, forza, dai! Ma che problema c'è? Ci pensa la nonna Pina a toglierti lo stress. E dopo un bel piatto di tagliatelle con ragù, un bel caffè. Il caffè, il caffè della peppina. Il caffè della peppina non si beve alla mattina, né col latte, né col tè. Ma perché? 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 La peppina fa il caffè. Fa il caffè con la cioccolata e poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, quattro o cinque caramelle e sette ali di farfalle. Poi dice, che caffè! La peppina fa il caffè. Fa il caffè con il rosmarino, mette qualche formaggino, una zampa di tacchino, una penna di pulcino, cinque sacchi di farina. E poi dice, che caffè! E il caffè della peppina non si beve alla mattina, né col latte, né col tè. Ma perché? 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 La peppina fa il caffè. Fa il caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male. L'acqua sì, ma col petrolio, insalata, aceto e olio. E quando prova col tritolo, salta in aria col caffè. Il caffè della peppina non si beve alla mattina, né col latte, né col tè. Ma perché? 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 Alla prossima canzone! Ciao bambini!